sempre colpa dei genitori. Certo, certo, certo. Ma come si fa signor direttore a pensare i figlioli quando ogni giorno bisogna alzarsi alle quattro? Certo, la capisco. Certo che è duro, è durissimo. Durissimo, durissimo. Ne convenghe, è duro. Eh sì, ne convenghe, è duro alzarsi tutte le mattine alle quattro. No, tutte le mattine no. Ah no, la mattina sì o la notte? No, 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 no. Neanche. Tutti i giorni alle quattro del pomeriggio. Alle quattro del pomeriggio? Lei si alza alle quattro del pomeriggio? Beh io lavoro di notte ecco. Ah, allora. lavoro di notte. Capisco, fai il guardiano notturno? Beh, se, se, in un certo senso sì, sei avvicinata alquanto. Mi sei avvicinata? Fai il guardiano o non fai il guardiano? Beh sì. Fai il guardiano? Sì, guardo, guardo gli interessi di mia moglie, ecco. E capirà, è già di notte, capirà la concorrenza, le possono fregare il posto. Oh, e dico, se fosse io. Adesso ho capito. Lei è un prosceneta. Va di come parla, santo. No, no, l'ho detto e lo ripeto. Prosceneta sarà lei. Ha capito? Va di come parla lei. Io faccio il pappa. Non capisco. Sono un pappone. E come sarebbe? Sarebbe che mia moglie lavori e io pappo. Lei non ha mai pappato? No. No, no, dico, quando c'aveva i capelli. Cosa c'entrano i capelli? Qualche... Ma è una questione di dignità, di onorabilità. Lei è prosceneta, le lo dico un'altra volta. Vada per il prosceneta. È però la parola che si addice a chi fa il lavoro come il suo. Prego. Il mio non è un lavoro. Ah, no. Egregio signore. Cos'è? È una vocazione. Anzi, per essere precisi, è una missione. È del padre lei. Sono un padre missionario. Ma mi faccia il piacere. Ma me lo faccia lei. Scusi.